argentino di mendoza approdato a milano esule da ovunque salvo che da se stesso migliaia di volte ma falda piccolina così che ragiona come cartesio e sente come schopenhauer e tanti uomini che invece continuano a non pensare cominciamo dall'inizio quando quando hai cominciato a disegnare immagino in argentina e che cos'è che ti ha spinto a disegnare mi ha spinto a disegnare il fatto di avere un tio uno zio beh ogni tanto mi scappa una parola in spagnolo uno zio disegnatore pubblicitario io avevo tre anni quando l'ho visto disegnare per la prima volta e sono rimasto colpitissimo di questo fatto di avere una matita in mano e cosa veniva fuori così lui ti ha fatto disegnare anche sì perché poi è venuto da noi abitare a casa allora dove da voi dove eravate dove stavamo in un'unica